il prossimo che ci fai qui pecora cosa ci fai qui fuori ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft cioè la pro gamers craft bentornati questo qua è il terzo episodio sono con pietro bella bene per iniziare mangio bene l'altra volta lasciati a quanto abbiamo fatto il sotterraneo qui sotto con le fornace automatiche never in a world le fornaci qua infatti ma io avevo messo qualcosa ma metto un pezzo di carne posso ok allora l'altra volta poi in full camera e full camera off camera poi ho fatto stavo iniziando stavo iniziando una casetta su un laghetto tipo per fare un magazzino per gli oggetti siamo così a casa si va perché non c'è più un cavolo da fare bene tipo sarà questa la grandezza sì quindi prendiamo i blocchi di oak professore ok ok facciamo la grande alta quanto ci pare piace la testa ci pare piace il demy purtroppo dimmi cos'è bisogno perché dimmi mi dispiace salutiamo demy ciao demy molto bene oddio e da sei anche che non si vedono matteo e daniele ma sono molto occupati come si vede o meglio penso che forse matteo si sta spippettando dalla mattina alla sera e invece daniele sarà che si vede partite e noi stiamo qua a spaccarci il culo a farci a fare video su youtube per voi ciao demy starà facendo qualcosa speriamo che non ti stai spippettando pure tu dimmi allora ragazzi vi racconto questa storia che stavo facendo questa case stavo facendo il ripiano di questa casa è tutto un tratto mentre facevo mi esploso un creeper qui e quindi bella cosa continuiamo alla casa bene vabbè ci vediamo quando è finita la casa bene ragazzi è finita la casa dove metteremo ovviamente delle chest dentro con dei machine frame sopra metteremo gli oggetti per cui servono bene sta facendo notte andiamo a dormire ovviamente mettiamo un po' di torcia a casa ma porca mi sei eh si bene abbiamo finito di dormire andiamo che cosa sta qua niente ah dobbiamo prendere il pezzo di carne dentro la fornace che abbiamo me prendiamo yeee un pezzo di carne bene ora consumiamo un po' di legno per farci le ceste si si mhm si ah ce l'ho il legno eh dov'è il legno non c'ho il legno questa qua è terra eh ok non c'ho il legno ok andiamo a prendere bene bene ehm visto che la sta una super foresta in prima world birch pure bene il legno birch è il legno di birch che cazzo è il birch è il legno di betulla ah betulla c'è questo c'è questo c'è questo c'è questo la grafica che rimangono le foglie sospese nel null no cogliale merda muori ma è morto va bene ehhh ecco ora che muore yeee comunque ehm bene ehm comunque ehm no scherzo ehm dovete passare dai canali che mettiamo in descrizione perchè dovete passare ehm dovete passare dovete no ho finito la lasciate porca po ehhh un po' ritardo ehm andiamo di nuovo alla chesupola credo che basta sto legno si chi ha il mano mmm una pianta di albero ehm eccolo si basta basta oh 64 eh no mettiamolo tutto 8 oh 17 ceste 20 ehm 19 le andiamo a piazzare nella nostra dove dove ah di qua no e di la si ce l'ho nell'inventare oddio lag ga ma porca ehm allora andiamo a piazzare dentro casola ok e il lag la il lagmo le ceste stanno qua mentre arrivo un messaggio a pietro ehm ma io sto su dell'islam ah bello me lo piazza così cazzo ma porca bene me la spacca inizio grigio allora mettiamo così guarda guarda figata asimmetria asimmetria allora cazzo cazzo ma porca non lo potevo cazzare dammi sta cesta ok cazzo cazzo uno qua uno qua uno qua uno qua uno qua uno qua e uno qua lo cazzo cazzo uno qua uno qua spero che mi bastano le ceste uno qua uno qua uno qua uno qua e basta l'ultima cesta l'ultima cesta l'ultima cesta ce la teniamo ce la teniamo ehm poi andiamo a prendere andiamo a uccidere delle vacche che troveremo vado un po' in giro e ci vediamo dopo troviamo delle vacche uccidiamo prendiamo la pelle e facciamo i machine frame per i cosi bene ci vediamo dopo bene raga ho preso i machine frame che li piazziamo ora sulle ceste uno due tre quattro cinque uno qua e uno ne basta uno qua va bene dai ne mettiamo due uno qua uno qua 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 e qua ok li ho piazzati tutti facciamo subito il primo perchè non lo vogliamo quello della cobblestone ehm lo mettiamo uno qua ops che ehm ho levato addirittura i machine frame ho levato addirittura i machine frame yeh la parca ok mettiamo eh riuscirò a piazzarlo alleluia ecco questo qua sarà il posto della cobblestone e piazziamolo subito vabbè poi metteremo gli altri per il prossimo che ci fai qui pecora cosa ci fai qui fuori vai uccidila uccidila no deve andare a farci un bagno vai in bagno no non mi ha ascoltato muore vacca schifoso vabbè vi stavo dicendo ehm bene per per questo video è tutto lasciato mi piace condividete iscrivetevi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao dei ciao no cró